Aspettando il Tour, è il progetto che coinvolge 1600 ragazzi di Cuneo in un percorso ciclistico ed educativo in attesa delle tappe cunesi della Corsa della Maglia Gialla. Quella di oggi è soprattutto un'iniziativa per preparare i nostri ragazzi a questo evento importante che è il Tour de France nella nostra città che sarà il 20-21 luglio. Però è anche un modo per far sì che i ragazzi in una città sostenibile come quella di Cuneo possano riappropriarsi per un giorno della città. Diciamo che oggi ci sono tanti motivi per ringraziare le persone che ci danno una mano, ma poi penso a questa bella giornata, forse il tempo non aspettava altro, e questa gioia dei bambini per poter girare, per poter godere le bellezze della nostra città in un percorso in sicurezza con quello della pista ciclabile. E' bello avere questo progetto di fare questo tour in città con le bici, specialmente con l'oratore che ci sono altre persone, mi sembra un'idea piuttosto bella. Verrai a vedere il Tour de France? Sì, mi piacerebbe ma non posso. Sei già in ferie? Eh sì. Vi piace andare in bici? Sì. Vai spesso? Sì, abbastanza. Facciamo un tour, una specie di tour in bici per la città di Cuneo. Siamo partiti dai Salesiani e siamo venuti fino qua e adesso andiamo a fare un giro per la città. Mi piace perché c'è il sole e poi anche una giornata in bicicletta fa bene a tutti e anche alla salute. Vai spesso in bicicletta? Sì, vado molto spesso perché abito lontano e quindi vengo giù in bici. Oltre all'uso consapevole della bicicletta, i piccoli cittadini hanno partecipato ad una serie di lavoratori come quello tenuto dall'ufficio minore della Questura, che per i ragazzi è stata una lezione di educazione alla vita. Grazie. Grazie. Grazie.